A questo punto eseguiamo la programmazione settimanale. Premere quindi il tasto PRG. Selezioniamo i giorni della settimana, ad esempio del lunedì e il venerdì. E passiamo alla programmazione dei livelli di temperatura sulle 24 ore. Basterà premere il grafico. Per prima cosa lampeggia l'ora zero. E si potrà andare a modificare il livello di temperatura secondo quanto impostato nei tre livelli. Quindi in questo caso abbiamo il livello basso. E possiamo andare ad alzare i livelli da fuori casa, notte o comfort come si desidera. Finita la programmazione sulle 24 ore, con ok si conferma la programmazione andando avanti fino al fondo. Il cronotermostato propone i giorni non programmati, supponendo 6-7 come sabato-domenica, dove posso fare una programmazione differente. E eseguire la stessa operazione nell'andare a impostare i livelli di temperatura. A questo punto è terminata la programmazione, scorrere fino in fondo ed uscire. Il cronotermostato è programmato.